dimmi che ho visto male signor buzzoni buongiorno ma siamo qua esterno? beh la siamo troppo forte come alla sinistra? come alla sinistra siamo? vabbè viene da piangere dove è Tim? dove è Tim? lo sento già bestemmiare Ale 4231 COD e COS 1DCOS Asamoah oh si spinge sulla fascia come cazzo? come cazzo? cioè tu dici quando tu vedi la partita bestemmi no io per esempio prima di vedere la partita ottimo signor buzzoni lord imperatore ho bisogno di sclerare malissimo cazzo no io no ho fatto uno tieni qui bellezza sai posso darti una lezione di vita se ti interessa questo dice posso darti le lezione di vita non dammi le molti nel senso qualcuno ha qualche qualcuno ha qualche euro sulla carta? oh penso di no per cosa? vai sul sito scommesso e gioca tutto quello che hai sulla spalla assolutamente no assolutamente si la guadrono tipo a 6 euro eh beh lo conosci il proverbio insegna un uomo a pescare come vai a pescare qua? no no perchè c'è la canna? e non ce l'ho io forse non lo devo sboccare io so io so traumatizzato io veramente so traumatizzato se l'hai preso aspetta aspetta fammi farlo con me ti senti una lezione di vita se ti interessa ma cazzo si fa? cioè non c'è questa canna eh beh lo conosci il proverbio ti insegna un uomo a pescare ma si ammazzi il pescatore in metà la canna non c'è sto male 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 ma come riusci una lezione di prima è finito buzz ma sei l'inter con chi gioca come esterno? allora aspetta vediamo un po' conoscendo Spalletti allora chi è rimasto all'Inter? giocherà con Dalberte come esterno no a Samoa vabbè all'Udinese faceva l'esterno ho capito ma qua si ala non mi viene da piangere Politano è rotto no Politano gioca a Perisiccarro te l'hai messo in dash dai creo forse stai a comprare qua batti a giocare il tuo è fisso al dai unisciti e basta con questo a cosa mi devo unire? a cosa mi devo unire? sao prima finiamo prima posso andare a fare posso per smr sul Ale ci sei? come si fa? io c'ho la canna uff spalle ehi posso darti una lezione di vita se ti interessa non c'è nessun altro che vuole fanno se ti sto chiamando a te significa che non c'è nessun altro uff beh lo conosci il proverbio ti segna un uomo a pescare ma doggio o Mario di Ocane dove cazzo le ammette ah Dalbert Miranda De Vrij Soares Brozovic Gagliardini Asamoagio Mario Politano dietro a Lautaro Martinez questa potrebbe essere tranquillamente la formazione dell'Udinese se non c'è andano che ci porta e andano che c'era l'Udinese quindi c'è andato a tutto voglio cioè noi stiamo inguagliati e vabbè ma voi siete anche peggio di noi e mila c'è la squadra a me il tuo meglio della nostra ma io mi vergognerei a mettere in campo una squadra del genere ma quelli c'ha che ti fa se mi chiamo F5 oh dice prima che mi smuta che fido alla Wigelig no 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 lo sente quello che dice prima sei posso darti una lezione di vita è arrivato il trimone dai veloce vedi che dobbiamo fare pure dual bleed dopo eh è arrivato è arrivato no dovevi fare devo fare sia la ex che la master e la ex la fai da solo la mia dai la ex la fai da solo perchè io no tutti la fai da solo la cosa ieri in realtà le ho fatte tutte da solo anche la master p1 cioè non è solo che non riesco a fare le missioni poi e là hai un momento guarda che si è buggato ma che figlio di puttana oh e si sa di posti si bugga mai stazione dritto stazione dritto intanto non abbiamo capito che la dobbiamo rifare bisogna farlo cadere due volte in tutto eh beh non conosci il proverso basta spammare basta 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 trovate l'idea un altro che non lo può capire dai 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 ma porco ma che palle arefamo eh culo culo il colono si bug ogni volta vediamo il circo il giro di charlie una bisaglia cazzo e cazzo cazzo unici di primo attimo che mi sta assistere incoglionare tutto il computer hai già iniziato a fria il bologna tutto che con telefono non con computer pulgare storia 4-2 Liverpool abbiamo segnato l'obietta di Firmino e l'obietta di Manet ma perchè mi ha mutato prima giusto questo che? proprio segna mi sa perchè si perchè si perchè si avrò bello si è spaccato il naso mirando si deve entrare un pippone ancora più pippone forza spalla non ti bugare bene non ti bugare non ti bugare no non ti bugare ma io ti bugare non ti bugare che cosa d'arri ci è morto è morto d addio appassi come fatemi crea inizia a creare a master per la vedella prossima crea ma si ricordi per il tempo a fare il prossimo coseto dei da mesi della funetina o la 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 passata la solita roba la spazio stelle 345 devi mirare qua dentro questa porta che teniamo a master così Damiano è contento e ti spara a Lucretto e ci vuole... bella ma c'è è dual blade ma come dual blade vanno bene anche le spalle o soltanto esclusivamente dual blade dual blade e dual blade Damiano che domanda c'è scusami che diamante dual blade e ma c'è bellissimo no 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 lì è soltanto questo io ma rimane la buzi qua in là mi piacente qua ma no no dual blade non puoi non avere dual blade Damiano hai chirito eh ma esiste l'è do le mazze mi provo solo lo scatto gratis eh? ti ha detto non ne ho tante non potresti credere prendiamo le armi facetemi equipaggiare il tutto gli accessori sto mettendo il team delle ring sto facendo eh e prendo il proverbo 3 RAIN REIN ANNIVERSAL REIN YEKATRA e' più piccola eh ca' io c'ho yukindark rain raindrop e eh rain raindrop eh mi ho metto mitigation però no Damiano con 100.000 account che affatto non ha mai trovato rain corp per me sarà tipo l'ultimo pc che trova nel gioco dico parco dio trova prima tutti i 6 stelle tutti i futuri 7 stelle e poi l'ultimo pc sarà rain 4 stelle madonna festeggio quel giorno no ma pur il calmo acci tu a un elicottero di questo successo a buon anno mi chiesto che era compasso la schermata scala 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 no andiamo di nuovo da... dalla funilia però ancora eh c'ha fatto no boost, dalla funilia devi andare ce l'ho sottotiro! ah c'è un boost qua non è che per caso rinviano la durata del FUTCHAMPIONS, no eh? sei la mia si, sta pieno ok, vai ora vedrai il mio team portentoso ora tu a uno dei nostri dalle parti del gesto festeggi ah 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 la roba è già forte dobbiamo fermarli giù, sotto! c'è un camion qua qua c'è un camion qua il camion si è perso nei meandri ma come ho fatto a ammazzare un civile che stava da dietro ma chi è la mia oh sta entrando che non mi fa entrare ma qualcuno mi aiuti vabbè quella arena ha la stessa ss3 di rain raidro wow no 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 ammazzare quell'orso ammazzare ammazzare questa troia ed di vederci boss quanto cazzo ha lento cagliardini pallavile ma dobbiamo stare attenti coi danni perchè io c'ho un mucchio di buffer adesso vabbè basta farne due a volta e poi la terza terry si spavano tanto ci sto io che non faccio danno dreamer eh munizioni? ottimo vieni buzi la pelotta la pelotta famosa la playa da questo miller acquisto del fantacalcio di gennaio cucchia nooo porca pucca eh non si è non abbiamo stunnato dai 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 spamba no ma non è in un ora va giù non va giù se non lo fai perri non va giù ho capito c'era uno sputo magari no 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 non bacio non si blocca vedi che è andato giù eh comunque abbiamo perso troppo tempo nooo non abbiamo perso tempo ce la facciamo basta fare i perri sei sbaggato eh vabbè è andato giù due volte buona buona che c'è successo? eh? ma che succede? ma che c'è di boss? vabbè dai regala dai eh non so più al perri al perri al perri al perri eh mamma al perri al perri via e dove si va qua poi? ma perchè mi ha enfuocato se non c'era mi ha enfuocato? proviamoci eh non jè l'avezzo ha enfuocato beh di capito pisa no ma ha carro meno ah papà atti una volta nooo spammate e non c'erano più di ss3 eeeh porco disco sche non gioco di merda fa schifo sto giuro a refamm? esattamente dai 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 ma timo io perché sono infocato no bugia dreamer che ha portato a dare che ci ha fatto il terry sperando a lontano ma guarda avesse se il suo figlio di quattro finta cinema di papo da questa cosa che va ormai l'abbiamo finita almeno mi tolgo il cazzo di 5 stelle urtaccia la mamma a posto da marco perché va a parto un voto di quello che voglio raccontare cristo di gioco maledetto più baga che altro ma tu stavi sull'acqua quella corrente l'elevato la corrente no 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 ok ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto devi saltare sulle cose che sono le cose opposto per saltarci sopra quanti tratti c'ho? oh minchia 15 15 punti tratti no no ma non me l'ha preso è un figlio di puttana boss è un gran figlio vabbè 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 no no ok sto bosso che nervi ma perché non è che è perché non potete sapere qua e alcune volte ma pure volte il bacino subito volte si riazzi apriano c'era più vite baccato proprio male ma da che nervi dovrei aver fatto tutto è che posso farvi un'altra armatura recino posso fare anche 3 di armatura 2 sicuro forse 3 che cazzo di falla hai visto che cazzo di falla hai visto mo mongoloide di un'arbitra beh 69 vediamo davanti che c'è dei punti cazzo di falla hai visto mongoloide di un'arbitra beh 69 vediamo davanti che c'è dei punti ok che devo fare semplici partiti da qua stasera mi faccio io mi faccio la re 4 vado la gente che non sta in casa che qui mi chiamo bannerei dalla faccia della terra tutti quelli che hanno messo in giro sta voce dio santo che palle per iniziare una partita in volta cent'anno ma lo fanno perché voglio fare tipo di vizio solo che loro non c'è quello che lo fanno e per quello quelli che hanno veramente idea quelli che non capiscono ma dimmi fifa fifa spiegami il tuo concetto di match making questo qua quello che ha più alto di overall è c lui l'ottantaquattro perché mi devi mettere il match making contro uno così perché tanto devi perdere vuoi offrire lui questo nasce un giocatore normale povero lui è come me e dove ho fatto cioè c'ha michel antonio in attacco sai che ti farà il culo quel michel antonio si può essere ma metti caso che in realtà è probabilissimo no ma metti il caso che lui adesso non è oppi no ti pare normale mettere michel antonio contro vangic 91 ah ok no vabbè questo skill allora c'è la mamma puttana oh no ok va bene ma non c'è controllo sta cosa ma capisci che esiste un leggero ma dai ma che cazzo fai alexandro ma sei creativo l'ha buttato in calcio d'angolo guarda guarda che adesso mi prendo solo perché fa la crocchetta ah questo c'è un ruolo da sì per quanto il fuoco sta bruciando a meraviglia che spettacolo guardiamo quando sta capire il gesto dai sta sui 600.000 cazzo ah bene c'è la squadra rincoglionita ok va bene ma che perché è nella che c'è Michael in porta ma il normale non posso battissimo di fuoco completato abbiamo sbloccato la macchina zio sei bello allora dobbiamo aspetta devo andare qua dove sta ah dov'è la macchina ah c'è il codo qua vabbè ancora qualche rimpallo devi avere non lo so dov'è il codo? ah c'è legge 4 volte rimpallo la palla sempre lì venga Bulls venga arriva a 583.000 speriamo che stasera trovo così decente che dite la mettono che dite la mettono un sbc stasera dai lo fa pure le squadre le squadre le squadre ma fai il moment per mettere un sbc sbc nooo dai non c'è l'altro niente dai vabbè questo qua ecce due vedi che stiamo sentendo peccato troviamo le cose ci da c'è sbc hanno deciso che ne leggis papers dove? o che? l'acqua Dove? Vai di qua Oh Do 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 Caccia 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 Hai Caccia Ma guarda E Caccia Mh non ho spero cazzo di alberelli ma poi mezza di vista un po' di strada lì eh sì sì te l'hai visto che cazzo si fa ma che cazzo si fa non lo spieghi lo affidi ai giocatori dell'inter e lo perdi un contropide te conto tre lo perdi ma è che dici c'è il barcelù c'è il re a madrid c'è il l'aiu la spalla no oh buz no ma lì ti gioca con la spalla un bici contro la spalla addio terzo boss skipa skipa boots ma non va a skipa ma non va a skipa mamma mia la fatica per segnare a questo meno male che è un cecchino che non ha nemmeno bisogno del tempismo per segnare cioè 99 di tiro con la carta in tutte le stazze no ho sbagliato no 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 perfetto se maometto non va alla montagna allora porta la montagna a maometto si comincia comunque sono bagatissimi i tiri di prima appena arriva la palla al giocatore non li hanno fixati manco per il cazzo ma che cosa hai mangiato come vai dio santo cari devoti siamo qui riuniti per testimoniare ah se si che crista insieme sei un figlio di funnare pronto Jamie Vardy buazzia tanto mi fa 3 a 2 come l'altro non è che io ho la mano sulla parola di joseph adesso mica dà col cazzo no non mi arrenderò mai a quello psicopatico lo sapeva avarizia pensare sempre a se stessi che cazzo sta dicendo la settimana prossima i derby vado ma il derby il derby lo vincete pure il problema è tutto il resto che tanto perdete i punti nelle altre partite cioè vedo il vostro problema cioè il derby è sempre una cosa a parte sì ma l'ho perde all'inter derby ma cosa devi perdere vincete almeno che non rientri i card mette l'ho e gioco a due punti quel coglione di gli spalletti perché c'abbiamo perisic che sia quando entro questo è il potere del sì che resta il potere mettendo a vendere un po' di giocatori lo fanno i 50.000 accrediti il potere di essere liberi di essere liberi lo sapevo io cosa di là eh sì se mi dico così vuoi tu vice mettere la tua mano sulla parola di joseph vuoi tu vice mettere la tua mano sulla parola di joseph rinunciare ai tuoi peccati ammettendoli 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 di... di sì è solo una parola rinunciare ai tuoi peccati ammettendoli di... di sì bella sta big ahah Poi giove in chiesa, mi ha capito, ce l'ha distotto Cazzo, mamma, mi si può lavorare il picchio Mamma mia Vai Ho anche seguito qua, qua No, insedibile Nooo Lingard, sei serio? Che cazzo fai, gli scherzetti qui? Gli scherzetti Gol Ah, devi portare a guidare il predio, devi guidare Che ha segnato? Martinez Ah, io devo fare due seri nella torretta, buzza Merda la crista Assist di? Tocca tutto sulla spalla Due fisso Vai Oh, è che è aperta Quello, lo so proprio Lo so proprio, disse In vantaggio 1 a 0, dovrebbe essere veramente un idiota Perdere lì Assist di Asamoah Ah, è un giocasamoah come esterno, mamma mia Ma che cazzo? Penso quello che volava Ah, è stato bravo È stato bravo È stato bravo Lautaro Ma che cazzo? Ma ora non ha fatto un cazzo Ha fatto il grosso, sì Però no, è stato bravo Lautaro Lautaro è meglio di card TTS, eh Non gioca più con la squadra Guarda Mi muove di più Ma i card di aspettava Ma... Se i card di non gioca con la squadra Ha colpe dell'alleatore Vabbè Tutti i giocatori tendenzialmente sono individualisti Oh! E che cazzo? Quindi, ma se di come si è preso? Gli effetti, gli armorelli Si, si dice anche di peggio PORCA PUTTANA Henry Kane, però Così tanto vale Don Belè? Don Belè PAMMA MIA Lingard Ma che fenomeno è Ma che però però è Che fenomeno è Ma lì È quello di Lautaro Non ce la faccio Meno L'ha annullato? E' stato 0-0 Ma è giusto L'ha controllato con la mano Non l'ho visto lì Allora non aveva fatto una grande cosa Aveva fatto un'aninfamata E' come... Si vedesseva di sparo Non si vede io Sembra che non si vedeva Se lì era appoggiata di peggio Ma l'ho provato qualcosa Qualcosa? Che? L'ho passato a peggio L'ho passato a peggio L'avezzi vale qualcosa Purtroppo il pocio non vale più il mio Che? 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 Hai poteri psichici? L'ho sbagliato L'ho sbagliato Non volevo fare fallo Dobbiamo buttà L'ho sbagliato Proprio però non ho messo in venta 25 Speri di pace Un 10.000 E' Che mi doverò sesso Che? Che? Ma Damia Io non sono forte Io al massimo posso arrivare a 14 Non posso manco più arrivare a 17 Mica può arrivare a 17 Ho scelto un bravo Ormai Ormai E fra paretisi Non mi voglio nemmeno abituare a questo Un nuovo modo di giocare Tieni conto che io so proprio scarso Alex se lo vuoi dire che so scarso Ma tu sei più forte di me no? Sei più forte di me no? Io sono quello più scarso Io ho soltanto la squadra buona E so E so un pochino difendere E' quello che mi salva a me E so un pochino difendere su sto gioco Ma... Per come attaccare faccio pena Un attimo arrivo Ma... La da punizione Huracl mazzo Alex se vengono tutti i giocatori E' andato un attimo via Se vengono tutti i giocatori come? Nedved, Balak, Baggio Prime Impressi Presito Figlio Ibrahimo Vestaniare Fesh, Bactiago Silva Come va non esplode? Che penso sostituirà subito Perché non ha intesa Ma tanto se sostituisci Sembrasse di intesa Ho capito ma in quel momento Aveva 4 di intesa Cioè... Cioè... certo che se riesce a far giocare i bra 10 di intesa non hai bisogno di i bra 10 di intesa è attaccante più forte del gioco è assurdo ho capito ma cioè è un po difficile da buttarlo a 10 di intesa nel senso per questo solo che se ai due icon ce lo butti 10 di intesa santo alex è morto 10 di intesa lo sto utilizzando con otto e li fa lo stasipi apre lo stasiculi porca puttana c'è già lo fa della panchina che entra con 5 di intesa non consegno con 5 con 5 non c'è nessun tipo di bonus e marzo giusto forse uno ai che possa essere così tutti pensano che sia pazzo ma non lo è cazzo che in basta così per buttare giocatori venguti sei giocatori guarda i giornali guarda che comando vuoi questa chiave opposto uno pari vediamo c'è la partita praticamente i brei movici è un flash perché un eric e il mondo più forte perché è più rapido non c'è più rapido proprio a tiro stanno lì a tiro stanno lì perché i bra tipo 92 che in a 91 però il fatto che è più veloce è più grosso un po fisicamente c'è veramente assurdo cazzo ma spesa che poi ci spavano male al male a paccano l'autaro ma allora io adesso mi sono rotto le palle adesso c'è tolgo ansi e metto un altro ciò ci perché anzi qua sfragiato la wall era basta io sa ce l'ho fatto perché era sì però potremmo stancato ma alcune volte li si chiude proprio la capisco no music c'è andando di passaggio per finta ma poi fatto che c'è poco equilibrio in cc allora come cc secondo me è devastante come cc è buono ma alcune volte ha tipo dei blackout assurdi adesso proverò mer ciao mertensi ce l'ho mertensi mertensi ci dovrebbe giocare meglio credo però che c'è poco fisico potrei mettere lì in galliccia ci stai giocando non ho capito un cazzo pronto scendi un attimo aiuto qua scendici nel bunker no capro armato ma da brosovic rotto pure ne avete uno sano genna dove sta la casa lì fuori il camion c'è quella l'entrata di quel garage porca di quella madonna ah no c'è andrea sentata oh mio dico che si è buttato le buzze esiste ancora c'è andrea e va dai check di me ma come fa check con 4 di intesa essere così forte come con 4 con 4 non fa link con nessuno guarda vabbè dai vengono no 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 vengono baggio no non muore mai maggio fra i momenti in prestito ancora per cinque partite mannaggia la puttana di eva per persone di merda ma cos'è sto sito bus che vedi personaggi nemici dove stanno scusa non munizioni non cazzo bus che tirava martellato in testa incredibile dai lingard fai il serio lingard mannaggia la puttana non munizioni quindi maggiun devo rossarci verso ma poi uccidere pinza del boot no uff ha messo i cheat dai 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 ma guarda salti bus salti salti bus salti nooo bus e grappati alla vita ma è che è in live adesso alex metto merda al posto di il giro riparato dalla piazzi il giro di la piazzi alberto mutati io ho il giro che ho vinto pericoli io ho detto non mi vuole come la mente no un po' tutti fissi ma perchè sono in domizioni poi ho tramutato panna nooo wow che vero libri alito e comunque sto facendo preparati di mangiare metri guadagnati il suo figlio di pittà donna dai dai vai vai ma cazzo vabbè u vabbè u e buonasera tutto tutto bene combatte solo per l'umanità ma porco giù ma perchè ti lukas 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 salta 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 aria portiamo sta fuori è un malattimo bui semi da munizioni semi di buzza è un muro vale quindi che chi è per essere riuscito a prendere va a run tutti non lo so io ho preso 2 e 1 all'asta quanti crediti hai? se non ti piace vendilo 2 e mezzo intanto non lo compro non comprano neanche 2 e 3 l'ho comprato una volta 2 e 3 quando c'era l'asta ovviamente perchè è totalmente stupida io si però io quando fanno l'asta tipo per esempio stanno due giocatori a mille crediti per esempio un'offerta per esempio 850 e l'altro un'offerta per esempio compro dove hanno fatto l'asta perchè sopra non prendo niente faccio posto questi cecchini di merda dai giocata la band di sta palla madonna santa è un mostro da marsello da comprare totti in teoria e costa 2 milioni cosa già i totti hai in squadra aver trovato un pape mi ha dato un botto di crediti direi avevo ronaldo 94 lì faceva schifo ah allora quando lo dicevo io ero una torna ma schifo no la sala di controllo è chiusa nessun si l'hai trovato sequenza di lancio interrotta ok non so che fare però non lo devi sapere utilizzare ronaldo fa schifo punto e basta ma lui dicevo io mi prendevate per mongoloide no a me mi prendevate per mongoloide perchè prima ancora che tu lo trovassi dicevo che che ronaldo non è tutto so gran che è l'avete pigliato per il culo per un mese poi l'ho preso pinzer eh poi abbiamo fatto una una pallata facendo attivare forte 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 ma mi sono mutato un attimo che non ho mutato sono zitti turnati che sta facendo assoluta non c'ho rango oh distruggi le console dove stanno queste console? no l'ha preso pinzer pinzer non si trova oh l'ha preso alex non ti trovi c'è aveva ragione a capo di tutti il mio roof attenzione pure messi messi c'è proprio i propri messi è buono si però c'è il problema della stamina ma che cazzo se mi frega un attaccante messi è buono ho usato è buono però c'è il problema della stamina c'è una protezione contro lo sblocco ma dove cazzo si deve andare qua? dove sei tu? come si sale da là? ma quanta stuccia c'è? non entra niente non entra niente mamma mia cazzata come si fa qua? ma ma no per poco era un velo di figa proprio era un velo di figa proprio che si va qua? oh cazzo ma che cazzo li fa là? fischi ma spera sparo gli solo un colpo così ma sì ciao guarda guarda fatimamola star inserisare sono un bordello caputana amo capito no no lucas luca ti scarto ti scarto a porta vuota porta vuota vuota l'ha buttata al lato in rimessa laterale ma vuol dire la partita iscrittata si parla tutto e quando tutti oltre al fatto che c'è che aveva parato un tiro ai nuovi che vabbè tirato senza tempismo al volo però porca tana e ibra 19 4 con le super soft mi ammettere che mi dà merda no a me mi dà merda anche alo ma quindi com'è che funziona l'assetto a corsa la funzione che bisogna aver voglia no nel senso che per lo streaming come vi siete organizzati non lo facciamo ci sarà una direzione ci sarà una direzione adesso non penso proprio a meno di qualcuno che ci dà posto a qualcun altro ma guardami tu ho un test sbagliato ma secondo me non rende fare una summer link con la FF70H la summer se la faccio la faccio su F1 quindi ma scusa ma passarlo come la posso ma come test no fare un evento così su asset si ci sta però a test in corsa posso stare vai a test a comparire appunto una summer con la FF70H a poco senso mettere la link su quel piano diciamo così bevi bevi breve non so se ho reso l'idea di qualche sto dicendo sì ma boh vabbè più che altro l'avevamo fatto l'anno scorso io non ho visto che aveva portato pochi risultati ma FF70H su ruote coperta penso che sia non diciamo pubblico una affluenza maggiore credo forse dagli esterni più gente magari riuscire a organizzare guardate vi prego vi prego dovete guardare per il prossimo anno almeno una live ogni due settimane ah sì una roba del genere andiamo giù che andiamo cazzo tanto ma più che altro mi sembra di fare la copia di formula 1 no ma più che altro fare delle pisse un po' di channel switched dimmi eh aspetta di ricordi c'ho paratratti c'ho eee dell'ultima delle munizioni c'ho il primo e il secondo ma l'ultimo proprio l'ultimo a destra no eee munizioni ah no ce l'ho ce l'ho perchè ho fatto quello prima che riusano come bersagli d'allenamento per impedire che continuino a fa non so come avremmo fatto senza di più dovrei negoziare un accordo con sand è di nuovo nostra ma che ne sarà del resto della cortea non so come a riusciare un passaggio non so come ci sono non so come a riusciare un passaggio non so come ci sono Ehm, qui è Kim Rai per Nick e la vice. Se ne ha fatto pure il... Il mitraglione, mi dò fa. Guarda. Non è un'emergenza. Per ora. Allora, vediamo che missione in generale possiamo fare. Parroco, Jerome, Jeffries. Allora, qua c'è questa. Anzi, no, speriamo, qua c'è un silo. Forse... Se finiamo sta missione, poi abbiamo finito tutti i silo. Abbiamo finito, but. Vieni, capo, sentiamo con la macchina. La macchina è di Dio, va anche sull'acqua. Che devi ammazzare? Ah, ma questo è il vecchio silo, è un'altra cosa, eh. Vabbè, ammazzati, va. Ti devi ammazzare, buzze, non ho capito. No, ma io questo l'ho sboccato prima che succedesse sto fatto, eh. Poi ti devo dire. No, c'ho la prima e la seconda e basta. La pistola. Andiamo qui. No, c'è. Letto una missione, qua. Chi è? Ah, che sono portatisci. Ma vabbè portata la macchina, dobbiamo portarla. Ok, gira a sinistra appena fuori. Ci sei macchina, sì. Ma vabbè portata la macchina, dobbiamo portarla. Ma vabbè portata la macchina, dobbiamo portarla. Ma vabbè portata la macchina, dobbiamo portarla. Ma quanto c'entra una contrazione e l'altra? Ah, mi spiace. Non so come funzionano le tue tubature. No. Oh, oh. Non mi sento bene. Cosa? Tutti questi respiri mi danno la testa. Ah, una mano! Kim! Kim, mi stai spaccando la mano! Oh, Gesù. No. 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 Con quella è incinta, fa il salto, capito? Oh no. Tieniti forte, Kim. Cazzo, lascia in giro. Con questa roba! Cosa sta succedendo? Non ha nessun senso! Oh, sai, non è passato. Forse c'è la luna piena. Piega tutto. Gira a sinistra al ponte, poi è tutto dritto. Ma cos'è stato? Un aereo, Kim! Perché da poco? Ce la facciamo! Accelera, vince! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Kim, va tutto bene? No, no. Non sto bene. Niente va bene. Ok, su, è poco piove, c'è una scorciatoia fra gli alberi. Niente scorciatoia. Gira a destra e poi a sinistra. Stai sulla strada. Prendi la scorciatoia. Resta sulla strada. Scorciatoia! Shakey, vai! In mezzo agli alberi! Mamma mia. Guarda se ci dobbiamo fare di merda. Qui, accosta, presto! Presto! Mezzo agli alberi! Sì, è toskì. In mezzo a seconda porto ridurre. Ok. Un travaglio avventuroso. Allora... Allora, vedete un po' che missioni incinano nei paraggi, quei 2G. Acqua. Yes. Per andare... Perfettamente... Qua. Power trattura. Sì, subro. Sei? il cane pure il trattatore Che trattore professionale! Ero in vacanza, andavo visitando tutti i cinquanta parti dal meno patriottico allo patriottico e ho ricevuto una chiamata, la chiamata. Sono stato inviato qui in missione dal pezzo grosso in persona. Cristo Pedali, mi viene duro anche solo a pensarci. E perdona il francese. Devo recuperare una videocassetta che se pubblicata lo metterebbe in pessima luce col pubblico. Ho scoperto che ce l'ha un mezzo, come si segue? E dove si va qua? Qua Ehi Devo accedere all'attrezzatura in questa torre. Liberami da questi hippie dell'apocalisse. Ero sicuro di aver sentito qualcosa. Ero sicuro. Ti Devo A quella torre. Sì. Sì, non ho un po' di odi. Ricorda, anche se mi fa ridere dirlo, questa è una missione pacifica. Solo soviglianza. Non attaccare il bersaglio salvo ordini diversi. Ecco l'elicottero, puntualissimo. Se hai una tuta alare puoi lanciarti dalla torre e seguirli, altrimenti ho visto un quad che potrebbe fare al caso tuo. Ora muoviti. Uh, la scuola o la scuola? Ma! Vai, Vice! Seguilo! Ci ho buttato dalla casa e sono morto. C'è sette secondi. Segui l'elicottero, buzza. Se ne sta andando, Vice! C'è sette secondi. Ok. Così. Lo so che il nostro uomo prende l'elicottero. È bloccato. Ma tu, muzi, hai un heart per far bloccare i veicoli, tu? Hai un heart per far bloccare i veicoli, tu? Qualunque idiota con un bastone può... Ma no, no, no. Lo sbloccato, lo sbloccato! Lo spionaggio è ciò che ci separa da quelle bestie. no ma non mi ha visto ok ok lascia che il nostro uomo prenda l'helicottero ricordati che dobbiamo ancora scoprire dove nasconda i nastri qualunque idiota con un basso che si arriva mini-boots vieni qua no mamma mia oh no come se ne sta andando e dai quanti alberiii no no se lo abuzzite questi elicotteri e se non ce la facciamo ah ah panna mannaia ok lascia che il nostro uomo prenda l'helicottero ricordati che dobbiamo ancora scoprire qualunque idiota con un bastone può fare waterboarding non posso fare qualcosa non 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 Ma... Il comandante è in capo. Oh, va a c... Ma il mertello è un gioco di merda. Ma... È arrivato il momento del bastone. Cosa sta succedendo? Stiamo cercando un supporto fisico. Probabilmente un vecchio nastro VHS. Io sto arrivando, fammelo trovare. Sì... Come si, mi pare... Come si... Cosa è? l'agrazione 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 ecco qua parte nostra wills cos'è tu? ah sta qua vai e fermati ma come? ma oggi viviamo in una nuova america so che volete qualcosa da me ma è così che funziona mi ricorda una cosa che mi diceva sempre mia nonna metti i desideri in una mano e caga nell'altra vedrai quale si riempia prima vi manca? ci si vede in giro hai capito che ha detto? allora signor buzzoni è stato un vero piacere giocare con lei salva esci